Ciao a tutti e tutte, io sono Martina qui con me c'è Simone in arte Ulisse Schiavo Ciao Ulisse, come stai? Ciao a tutti, sto molto bene Allora, volevo iniziare con una prima domanda sul tuo ultimo disco Precious Silver Grace che è ormai uscito a marzo del 2022 e è la parte più sensibile di Forze Non Violente un disco che punta tanto sull'emotività e con la ricerca di suoni che si sposano perfettamente sia con i testi che comunque con la tua voce è un album che mette un po' a nudo la tua parte più sensibile quello che volevo chiederti è al netto dei live che hai fatto quanto ti è costato portare questa tua parte più sensibile diciamo in giro per l'Italia? Beh, in realtà è stata una scelta di messa in gioco quindi avevo già in un certo modo provato a immaginare quanto peso volevo far sì che tutto questo sistema che PSG contenesse ho dovuto fronteggiare certe parti che forse solo facendo musica riesco a a comprendere in un certo modo e a veicolare quindi in realtà non è stato assolutamente un peso in un certo modo è stato c'è stata una scelta a priori che ho fatto quella di mettere in gioco delle parti sì tu dici sensibili ma fragili forse per come le ho intese io che però sono molto sincera e quindi in un certo modo era una sfida anche che ho deciso di fare con me stesso noi di provare a mettere in gioco le parti più anche più difficili di di quelle emozioni che avevo voglia di di raccontare ecco in un certo modo e il tuo CD pack contiene all'interno oltre che appunto il disco delle cartoline dove ci sono sopra scritti testi rimescolati di PSG e per far sì che questo album potesse avere una chiave di lettura diciamo diversa per diciamo c'è scritto proprio un'azione di sabotaggio nella presentazione appunto del merch e abbiamo detto che appunto è un disco che mette a nudo le tue parti diciamo più magari più fragili ecco volevo chiederti quale può essere un destino alternativo a questo punto di PSG quello che mi interessava evidenziare con questa azione era la possibilità di far sì che questi elementi che compongono lo sistema PSG che sono i testi che sono le parti musicali che sono le parti di voce le immagini che ho costruito non facciano appunto parte di un sistema finito ma che rimescolandosi e quindi creando equilibri diversi o anche disequilibri diversi dei contrasti nuovi che appunto non sono quelli che sono definiti da i brani per come sono stati scritti e confezionati in un certo modo perché comunque nel momento in cui si scrive una canzone si fanno delle scelte e si definiscono dei ruoli agli elementi che compongono il brano però in realtà è un disco costruito comunque su dei contrasti e io ho immaginato che come una parte di batteria del brano 1 potesse mescolarsi alla linea vocale del brano 5 questa nuova dimensione questo nuovo incontro genera qualcosa di diverso e quindi permette a questo sistema di non essere chiuso ma di essere continuamente generativo ed è un po' questa diciamo questa azione che ho fatto io con queste cartoline in cui sostanzialmente ho agito sulle parole sui testi vuole essere appunto un un simbolo uno sguardo a questo tipo di azione che può essere poi trasportata su tutti quelli che sono gli elementi di PSG in questo momento sto scrivendo una performance che non ha più niente a che fare con la forma concerto o la forma canzone partendo dagli stessi elementi con cui poi effettivamente il disco PSG è nato ed è da cui è costruito quindi in un certo modo anche qui è una ricostruzione una riorganizzazione per creare degli equilibri diversi e dei punti di incontro nuovi fra gli stessi elementi che generano una terza cosa o una quarta o una quinta e quindi appunto permette al sistema stesso a PSG di incontrare nuove traiettorie ok allora fermo restando che le tue doti canori si sposano perfettamente sia per un cantato in inglese che per un cantato in italiano sale risulta essere l'unico pezzo in italiano dell'album volevo chiederti nonostante comunque diciamo spieghi anche bene un po' il concept dell'album con sale volevo chiederti se hai mai pensato di tradurla in inglese e perché è proprio diciamo la scelta di inserire l'unico pezzo in italiano di cui poi tra l'altro c'è anche un'estensione sempre in PSG sale è la prima volta in cui mi è capitato naturalmente di scrivere in italiano nel senso che la maggior parte delle volte mi trovo a a fissare un giro armonico strumentale e poi improvvisare con la voce delle linee vocali e l'ho sempre fatto usando un inglese un fake english anche perché comunque la mia attenzione è sempre stata quella verso il suono della voce poi certo chiaramente a un certo punto scelgo di legarmi a dei significati o a quelle 4-5 parole che in questo fake english in questo flusso appaiono e poi costruisco il testo mentre scrivevo sale per la prima volta mi è capitato di dirigermi immediatamente verso l'italiano quindi in realtà no non ho mai pensato di tradurla in inglese ho pensato per molto tempo mentre scrivo il disco se avesse senso inserirla o meno poi sono stato consigliato da delle persone di cui mi fido che mi hanno detto no secondo me funziona molto bene secondo noi funziona molto bene e soprattutto a quanto pare sono riuscito a mantenere lo stesso tipo di approccio vocale nonostante appunto il cambio della lingua e questa cosa in realtà ha aperto poi un altro portale enorme perché adesso il disco che sto scrivendo è tutto in italiano e quindi in realtà diciamo che è stato un primo passo verso un nuovo una nuova fase di sperimentazione anche con la lingua questo in realtà sale è il primo pezzo in italiano che ho mai scritto e sono felice in realtà sia così mi sembra una sperimentazione super ben riuscita giungo all'ultima domanda tu sei fondamentalmente un artista a 360 gradi hai frequentato lo Juve a Venezia diciamo che sei abbastanza specializzato sia nell'ambito della moda del teatro della musica e volevo chiederti la scelta di far parte dell'etichetta indipendente dischi sotterranei per un artista come te è un'esigenza per poterti esprimere appunto a 360 gradi pensi che affidandoti a una major il prodotto quello che volevi effettivamente diciamo far vedere sarebbe potuto cambiare? non so se sarebbe potuto cioè non so se sarebbe cambiato però io sono con dischi sotterranei da quando dischi sotterranei organizzava i primi concerti per noi che si voleva vedere i concerti che non c'erano e che non succedevano a Padova e nel momento in cui io scrivevo il primo disco dischi sotterranei nasceva come etichetta sono miei fratelli ho sempre lavorato con loro ed è stato cioè non è neanche una domanda che mi sono fatto è semplicemente stato che ragazzi ho questo disco facciamo uscire questo disco sì facciamo uscire questo disco poi certo per dar continuità a tutti gli altri settori in cui mi piace sperimentare in realtà mi sto facendo ad altre realtà dal punto di vista discografico di supporto umano e di vicinanza anche al progetto dischi sotterranei sono appunto sono una famiglia oramai grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti